La riunione è stata molto buona mese, noi abbiamo un po' turco di DRH e ci sono anche 13 punti di fronte e ci sono delle domande, e ci sono delle domande, e ci sono un momento che ci sono un po' turco e ci sono alcune parole anche. Per avere più informazioni di una riunione interna, ci sono delle informazioni, ci sono delle informazioni, e poi ci sono anche delle interviste. e così mi chiedo di prendere enfasi sul budget che ci sono riusciti a Sinaleo che ci sono un'efficienza per la seguente riunione, che ci sono dei 13 di juni per il nuovo ruolo, ma non è un gruppo piccolo, il gruppo negoziatore che ci sono presenti. Noi abbiamo una riunione per toccare il malcontento che ci sono assistiti a un gruppo di informazioni, la riunione è molto buona, abbiamo una buona cooperazione da parte della diretora di ARHA ci siamo sperando di avere documenti e informazioni che ci sono per noi 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 per la prossima riunione per la stipulazione del 23 di junio Sua ultima parola? Mi te grazie a Omaira per noi per noi per noi per noi e per la collaborazione per noi che ci sia una decisione per noi per noi per noi per noi per noi per noi